ciao amici e benvenuti sul mio canale youtube seguitemi in questo video dove farò delle ciabatte ciabatte con semola rimacinata ho preparato le farine eccole qua rimacinata è zero sono 500 grammi in totale questa è l'acqua 400 grammi a temperatura ambiente poi vedo se magari ce ne vuole un cucchino di più o di meno la mia pasta madre ho lasciato un pezzettino rinfrescata l'ho alzata per farvela vedere e questo è l'autolisi tengo le farine i neotolisi 30 minuti passato il tempo spezzetto la pasta madre direttamente nella ciotola della planetaria e vado a far girare giro finendo di mettere l'acqua piano goccia a goccia vedete l'impasto è molto morbido e ho aggiunto anche il sale continuo a girare per 10 minuti dopodiché verso nella ciotola e questo è il primo giro di pieghe vedete rimane ancora un po' appiccicoso poi mano a mano che vado avanti migliorerà lo faccio lo tengo a riposo almeno per un'ora quindi quando andate a far girare con la planetaria non importa se rimane morbido non preoccupatevi perché poi con le pieghe sia giusta quindi questo è il secondo giro io ne farò 13 giri di pieghe sempre con un riposo di un'ora ecco qua vedete che già va meglio e questo è l'ultimo giro l'ultimo giro di pieghe vedete l'impasto è molto più elastico anche se ancora un pochino appiccica ma questo perché molto molto idratato ok a questo punto copro l'impasto con la pellicola e prima di metterlo in frigo lo tengo un'altra ora a temperatura ambiente e poi l'impasto va in frigo fino a domani mattina quindi minimo deve stare otto ore ma anche di più e l'ho tirato fuori e l'ho tenuto a temperatura ambiente un'oretta e poi lo vado a versare sul sul piano di lavoro dopo averlo infarinato in questo modo piano piano senza toccarlo molto non so se sul canale c'è già qualche video si dice abbattesi simile perché poi che succede che io ho tantissimi video sul canale e delle volte nemmeno mi ricordo che cosa magari ho video di due anni fa succede che mi fate delle domande sotto i video un po datati e io devo andare a rivederli perché mi sembra che sto intorno ai 200 video adesso sinceramente non me li ricordo tutti quindi magari ci sarà qualcosa di simile a queste ciabatte bene allargo l'impasto mi aiuto con la farina non lo tocco vedete che non lo tocco molto e guardate che belle bolle che ci sono allargo ancora un pochino senza spingere proprio molto e delicatamente le ciabatte debbono venire bassine quindi debbo allargare un pochino penso che ci farò ce ne farò quattro un po grandine se le volete piccoline ce ne vengono anche sei ne farò quattro belle grandine quindi divido che bella questa bolla cerco di non romperla allora vediamo come posso fare divido a metà senza star lì a pesare perché non è proprio il caso divido a metà e poi ancora in due ok eccole qua non fa niente se sono non sono uguali perché poi dopo si aggiustano in cottura poi le ciabatte sono proprio così sono un pochino in formi e mi sono accorta accorta che all'inizio c'è qualche imperfezione sull'audio evidentemente il mio computer ha bisogno di ferie anche lui oppure il microfono non so da che dipende ma credo sia il programma metto ancora un po di farina per non farla appiccicare e poi le giro le metto sulla carta forno però le capovolgo così si abbiamo fatto una cosa simile anche con il gruppo nuvola un amore di pasta madre con rosa credo è che non ricordo le dosi dovrei andare a rivedere il video che abbiamo fatto però sicuramente sarà simile ecco qua qui ce ne metto tre e poi metterò un altro un altro suoletto perché non ci vanno tutte e quattro ora queste ciabattine hanno bisogno di un'altra ora di lievitazione presso a poco un'ora sono già lievitate sarebbero già pronte però le teniamo un altro re un'ora e mezza anche ci metto un po di farina sopra e poi le copro con un telo nel frattempo dopo mezz'ora comincio ad accendere il forno così sarà ben caldo vi metto le le descrizioni per il forno ecco qua all'incirca 30 minuti però dipende molto dai vostri forni io alla fine ho acceso anche ho girato anche sul ventilato per farle colorire un pochino di più bene sono molto molto carine che ne dite vediamone sentiamo se sono croccanti aspettate che ancora scottano ok si una volta fredde ne apro una per farvi vedere l'interno avete visto è abbastanza vuota bella alveolata le altre le lascio le lascio perché come sapete le surgelo quindi se andrò a fare una cappettina al mare farcisco le farcisco e ce le portiamo al mare bene amici vi ringrazio della visione e come al solito ci vediamo al prossimo video ciao ciao